Bentornati sul mio canale amici, come promesso in un video precedente oggi andiamo a vedere le motivazioni per cui nel 2022 potrebbe non essere ancora il momento di girare i nostri video in 4k. Innanzitutto andiamo a fare un po' di chiarezza su un punto, esistono diversi formati che vengono chiamati 4k, abbiamo per esempio il 3840x2160 che è comunemente considerato il vero formato 4k perché è semplicemente il formato full hd moltiplicato a cui 4k, quindi questo sembrerebbe essere il formato più accreditato. Abbiamo però una seconda opzione che è il 4096x2160, questo secondo formato è esattamente 256 pixel più ampio rispetto al formato 4k, ora perché questo doppio formato? Si tratta sostanzialmente di una specifica cinematografica, infatti questo formato va a essere utilizzato spesso nel cinema perché è un formato più panoramico che consente allo spettatore di far spaziare maggiormente la vista, è un formato assolutamente valido ovviamente laddove noi andiamo a esportare con questo formato più ampio quello che succederà è che avremo le famose bande nere sopra e sotto, ora questa è una soluzione che può essere molto elegante, può essere molto cinematografica, tuttavia nel 2022 io ve la sconsiglio, ve la sconsiglio perché? Fondamentalmente perché noi andiamo a fruire il 90% dei nostri contenuti su questa diavoleria qui e quindi lo vedremo in verticale, quindi che cosa succede? Se noi stiamo vedendo un video come quello che state vedendo voi adesso, un video in formato 16 noni, su un display che è 9 sedicesimi, sostanzialmente lo stiamo vedendo a un terzo della dimensione dello schermo, quasi nessuno ruota lo schermo, quindi lo vedremo molto piccolo, se oltretutto è più largo ancora sarà ancora più schiacciato sul display del nostro smartphone, quindi nel 2022 io vi sconsiglio di utilizzare il formato 4096x2160, la risoluzione in sé è valida però il formato si adatta male ai device su cui fruiamo maggiormente questo tipo di contenuti. Andiamo a vedere il primo gigantesco contro dell'utilizzo del 4K nel 2022, ovvero la strumentazione. Se è vero che la maggior parte dei device in commercio negli ultimi anni hanno comunque delle funzionalità 4K, è vero anche che molti di questi device si stanno ancora evolvendo e non hanno ancora sviluppato una piena potenzialità di girare 4K con degli standard accettabili. Per standard accettabili intendo dire che anche il nostro iPhone gira video in 4K, ma non è assolutamente uno standard professionale. Molte delle videocamere e delle fotocamere che utilizziamo abitualmente hanno la possibilità di girare in 4K, ma spesso questa possibilità non è stata pensata per un utilizzo massivo, per cui abbiamo per esempio delle videocamere o fotocamere che si surriscaldano molto rapidamente, abbiamo delle fotocamere che non reggono bene il formato e quindi magari hanno un lag tra un frame e l'altro. Quindi questo ci porta al secondo contro, che dobbiamo anche rivedere tutte le memory card, perché se fino adesso siamo stati abituati a utilizzare delle memory card che avevano delle velocità standard fino a questo punto, dal 4K in poi per arrivare al 6 all'8K dobbiamo adattarci e utilizzare delle fotocamere di fascia più professionale, cioè delle fotocamere con velocità di lettura e scrittura ovviamente molto superiori, in grado quindi di immagazzinare la molle di informazioni che stiamo registrando attraverso la nostra fotocamera. Queste memory card ovviamente costeranno molto di più. Questo ci porta direttamente al terzo contro, ovvero la quantità di spazio che servirà per stoccare i nostri file e anche per lavorarli. Ovviamente girando in 4K avremo bisogno di un computer più potente, perché altrimenti si pianterà di continuo, non sarà in grado di farci vedere il nostro filmato 4K, dovremo continuamente generare dei proxy e anche così potremo comunque fare fatica, soprattutto se stiamo facendo anche color correction e effetti vari. Quindi avremo difficoltà a editare il materiale, avremo difficoltà anche a stoccarlo, perché comunque il materiale peserà molto di più. Questo ci dovrebbe portare a fare una riflessione, che forse è il momento di cominciare a lavorare con degli screenplay in maniera tale da non riprendere scene a caso, ma da riprendere solamente le scene che sono strettamente necessarie per la realizzazione del nostro prodotto finale. Arriviamo al motivo un po' principale, per cui secondo me il 2022 potrebbe non essere ancora maturo per cominciare a girare tutto il nostro materiale in 4K. Il motivo è semplicissimo, molti dei nostri device non ci faranno mai vedere il contenuto in 4K. Per esempio la maggior parte dei nostri telefoni, quando stiamo su YouTube o su Instagram o su qualunque altra piattaforma, innanzitutto hanno un'opzione per cui quando stiamo utilizzando il nostro traffico dati non ci fanno vedere il filmato a risoluzione piena, ce lo fanno vedere in una modalità che si chiama Data Save, cioè sostanzialmente ci sta facendo vedere il contenuto cercando di utilizzare meno traffico dati possibile. Questo è giusto, è una misura che il nostro telefono prende per tutelare noi e non distruggerci completamente la banda, quindi è una cosa positiva. Tuttavia l'effetto che ha è che ci farà fruire i nostri contenuti a 720p, forse anche meno, per cui il risultato è che noi magari siamo andati a lavorare in 4K a una risoluzione pazzesca, laddove poi il 99% dei nostri utenti sta vedendo il filmato piccolino così sullo smartphone in una finestrella che magari non riempie neanche lo schermo per intero. Per cui questa sembra una cavolata perché noi dovremmo comunque ragionare sempre nel lavorare alla massima qualità possibile, però se ci rendiamo conto che nessuno dei nostri utenti ne trae beneficio è una cosa su cui possiamo anche fare una riflessione. Faccio degli esempi stupidi, sto facendo un video che deve andare unicamente su Instagram, forse posso non farlo in 4K perché se deve andare solo su Instagram, se dichiaratamente non andrà mai da nessun'altra parte, non ha tutto questo senso girarlo in 4K. È pur sempre vero che girare in 4K ha degli altri vantaggi, come per esempio la gamma colore e la dinamica dovrebbero essere superiori perché stiamo parlando di un formato con una risoluzione maggiore, quindi dovrebbe comunque avere una qualità superiore, anche se dopo andiamo a fare delle scalature più piccole. Un minimo di vantaggio ci sarebbe, bisogna capire se questo vantaggio rimane effettivo per noi e per il nostro cliente. Se è un lavoro chiamiamolo usa e getta che deve essere molto rapido, deve essere consegnato in tempi brevi e rimarrà online per un periodo di tempo brevissimo perché i post soprattutto di Instagram sono molto usa e getta, una volta postati hanno un tempo di respiro di 3 secondi e poi sono già vecchi, quindi non li vede più nessuno. Con quest'ottica secondo me girare in 4K potrebbe non essere la soluzione migliore, anche perché come già detto prima se non facciamo tutta una serie di upgrade, di memory card, di apparecchiature di ripresa e di macchine che ci permettono di lavorare i file, potremmo diventare molto lenti nel gestire questi file e quindi saremo lenti anche nel consegnarli al cliente. Questo diventa un problema che non deve diventare un problema del cliente, è un problema nostro, ce lo dobbiamo risolvere noi nel momento in cui il fatto che stiamo cercando di girare in 4K diventa un problema del cliente, al cliente non gliene frega niente, il cliente non le capisce queste cose tecniche. Lui vuole il suo filmato veloce come glielo davamo prima, quindi non deve diventare un suo problema, non dobbiamo fargli percepire che abbiamo una difficoltà non dovuta a quello che stiamo facendo ma dovuta a un nostro processo interno, questo non bisogna mai farlo percepire. Venendo a cose un pochettino più tecniche riguardo alla strumentazione mia personale, un altro motivo per cui non sono soddisfattissimo del 4K e parlo in particolare del 4K di Canon, come voi probabilmente avrete intuito, io ho tutta strumentazione Canon, quindi sono assolutamente fedele al brand, non ho neanche nessuna intenzione di guardarmi intorno perché mi trovo bene, quindi rimango con Canon, questo è scontato. Tuttavia devo dire che in ambito 4K con la strumentazione che ho ci sono un paio di intoppi, ma proprio due cosine piccoline piccoline. Per esempio il fattore di crop, nel momento in cui io vado a girare in 4K sulla mia Canon EOS R ho un fattore di crop che si avvicina a due, quindi è una cosa abbastanza pesante, nel momento in cui io sto girando con un 24 mm diventa praticamente un 40 mm. Ora questa cosa potrebbe non interessarmi perché tanto io non è che devo girare a tutti i costi a 24 mm, a me piace girare a 35 mm, quindi se il mio 24 diventa un 40 non è la fine del mondo, sono molto vicino. Il problema è che l'angolo di campo percepito è di 40 mm, ma la profondità di campo rimane quella del 24 mm e io invece potrei volere quella del 35. Se io mi fossi preso una lente un pochino più carina del 24-105 per esempio, una lente bellissima, però se io avessi preso una lente prime da 35 mm perché volevo il 35 mm, girando in 4K non sarebbe un 35 mm. Questo diventa seccante soprattutto nel momento in cui si vuole andare a realizzare qualcosa di un pochino più cinematografico, vale soprattutto per il video secondo me, perché in fotografia in qualche maniera ce la si cava sempre, in foto è più facile comporre le cose perché tanto è un frame singolo, invece quando si girano delle sequenze è più complicato perché bisogna riprendere degli spazi più ampi e quindi devono essere tutti giusti, devono essere tutti disposti in un certo modo, quindi è più difficile barare, deve essere tutto corretto a puntino, già in camera non si possono fare grosse modifiche dopo. Se in fotografia io posso rimuovere qualcosa di indesiderato o strecciare, in video faccio molta più fatica a fare tutte queste operazioni, quindi deve essere già giusto così com'è e quindi quando io voglio un 35 mm nel video voglio proprio un 35 mm, quindi questo è un po' seccante. Ovviamente me la faccio passare perché in fin dei conti è anche colpa mia, ho voluto prendere la EOS R invece della EOS R3 e sì, mi sono dato la zappata sui piedi, ho anche 5.000 euro in tasca di più rispetto che se avessi preso la R3 che in questo momento a me non serve assolutamente, quindi reputo di aver fatto la scelta migliore. Esistono delle camere sempre di casa Canon di fascia molto più alta di quella che ho preso io che sicuramente mi avrebbero dato tutte le specifiche di cui vi sto lamentando la carenza su quello che attualmente possiedo, però diciamo che il prezzo, la fascia di prezzo le ha collocate un pochino fuori dal mio budget, soprattutto per l'utilizzo che ne faccio, quindi mi faccio andare bene quello che ho, probabilmente su molti dei dispositivi che vi troverete a utilizzare anche voi avrete delle limitazioni sul 4K, potranno essere delle limitazioni magari di spazio nel senso che magari il file verrà frazionato ogni 2, 4, 10 giga, quindi non avremo un unico filmato bello lungo ma avremo tanti filmati spezzati e ovviamente questo dipende non tanto dalla durata quanto dal peso del file. Siccome il 4K ha un peso molto maggiore del Full HD saranno più brevi i video che potremo girare prima che vengano interrotti automaticamente dalla memory card più che dalla camera, perché questo dipende dal formato in cui vengono registrati i video sulle nostre memory card, quindi anche qui se vogliamo evitare questo compromesso dobbiamo andare ovviamente a comprare delle memory card più prestanti e più capienti, di fascia più professionale che possono arrivare a costare molto di più. Faccio un esempio banale, se prima ci accontentavamo di una memory card da 32 giga con una velocità di un certo tipo che magari costava sui 30 euro, adesso dobbiamo andare a prendere una memory card che superi i 200 giga, che abbia una velocità tre volte superiore e costerà probabilmente molto di più di 100 euro, quindi stiamo andando a fare un bel investimento anche semplicemente per la schedina di memoria che è un affarino piccolo così, figuriamoci per tutto l'ecosistema. Il problema più grande del 4K a mio parere è l'ecosistema, cioè tutto sostanzialmente, perché serve un computer migliore, serve una fotocamera e una videocamera migliore e servono delle memory card migliori. A questo punto posso anche mettere una piccola parentesi e dire che servirebbero anche dei clienti e dei fruitori migliori, perché se i clienti capissero a pieno quali sono le potenzialità del 4K e fossero disposti a pagare di più per avere quel qualcosina in più, sarebbe un bel passo avanti per i videomaker. Al tempo stesso se gli utenti a casa capissero bene la differenza tra Full HD e 4K e fossero in grado di fruirlo in maniera corretta, a quel punto varrebbe assolutamente la pena fare l'upgrade oggi stesso. Purtroppo questi ultimi due step non sono così poco importanti come possono sembrare rispetto a tutto il resto dell'ecosistema, quindi nel momento in cui ci troviamo in un ecosistema che non comprende ancora le potenzialità del 4K, forse è un po' presto per fare l'upgrade. Ciò non di meno, come detto nel video precedente che vi linko in card, io sono convinto che valga la pena cominciare ad affacciarsi al mondo del 4K, anche perché vi faccio notare, soprattutto se siete dei creator su YouTube, che il 4K vi vale il codec VP9. È una cosa molto importante perché YouTube sta facendo una considerazione sui contenuti che noi carichiamo e sta dando una sorta di premio a chi carica contenuti in 4K. Gli sta dando un premio adesso, nel senso che valuta maggiormente i video caricati con una risoluzione maggiore e li valuterà in maniera molto migliore anche nei prossimi anni, perché un bel momento il 4K diventerà il nuovo standard e andrà a sostituire il Full HD, che è lo standard attuale. Il Full HD è stato lo standard per mortissimi anni, ma è destinato a essere rimpiazzato prima dal 4K e poi vengono i brividi solo se ci penso e poi dal 6K e dall'8K. Bisognerà ricomprare tutte le camere e tutti i computer una volta ogni due anni per stare dietro a questi trend, probabilmente, perché comunque la tecnologia va sempre più veloce, le macchine sono sempre più potenti, quindi è un problema, me ne rendo conto, è un problema per le tasche ed è un problema per il cuore, però in qualche maniera bisognerà starci dietro. Però può darsi che non sia ancora il momento e voglio darvi una rassicurazione, per il momento, per il 2022, se lavorate in Full HD siete assolutamente scafati, nel senso che nessuno dei vostri clienti vi potrà mai dire che vuole assolutamente il 4K in questa fase, secondo me, a meno che non sia un cliente che ha esigenze cinematografiche, ma lì è un attimo. Cioè il mio cliente ha un'esigenza superiore di quella che posso soddisfare con la mia strumentazione, con quello che mi sono comprato? Benissimo, non leggiamo una macchina da presa. Vuoi una Red, vuoi una Harry? Non c'è problema, se hai quel tipo di pretese avrai anche quel tipo di budget e allora non leggiamo una camera. Hai quel tipo di pretese ma non hai quel tipo di budget? O rivedi le tue pretese o chiedi a qualcun altro. Questo per quanto riguarda i clienti, mentre per gli utenti a casa lì sostanzialmente non ci sono pretese, l'utente a casa è sempre più passivo, fruirà il nostro contenuto senza nemmeno rendersene conto. Probabilmente una volta terminato il video non sarà in grado nemmeno di ripetere che cosa ha visionato, perché gli utenti ormai sono così, è tutto così usa e getta, che un utente non ha nemmeno il tempo di assimilare quello che ha visto e soprattutto non gli interessa, perché essendo tutto usa e getta è tutto swipe, è tutto scroll, si fruisce tutto in questa maniera. Queste sono le motivazioni per cui secondo me si può frenare un pochino per il momento sul 4K. Bisogna cominciare ad affacciarsi, quindi è bene cominciare a vedere come performa sulle nostre macchine, vedere qual è la resa, vedere se ci sono delle differenze tra quello che facevamo prima e quello che facciamo adesso, perché ci possono essere delle differenze migliorative sicuramente e lì dobbiamo indagare perché potrebbero darci un vantaggio su altri competitor che girano ancora in Full HD. C'è anche da dire una cosa, nel momento in cui un cliente fosse assolutamente insoddisfatto del Full HD esiste la possibilità di fare upscaling e quindi prendere un video in Full HD e portarlo in 4K. Io ho fatto questo esperimento e devo dire che la differenza si percepisce veramente poco, ci vogliono dei monitor molto belli, ma veramente molto molto belli, di fascia alta e professionale per poter accorgersi della differenza. Nel momento in cui facciamo questo upscaling, se io vado a vedere un video girato in Full HD, lo vado a vedere su un monitor 4K, mi sembrerà semplicemente meno nitido rispetto a un qualcosa di girato veramente in 4K, ma non mi sembrerà brutto, cioè non andrò a vedere pixel o cose del genere. Quindi è un risultato che secondo me nel 2022 è pienamente accettabile. È il meglio che possiamo fare? Sicuramente no, però probabilmente non stiamo nemmeno venendo pagati per quello che il cliente potrebbe spendere, perché il cliente cerca sempre di spendere un po' meno. Quindi ci si cerca di venire incontro e non sempre vale la pena di fare il 4K. Se vale la pena o no, dipenderà anche da noi, dipenderà dalle nostre esigenze, da quanto ci costa mettere in campo la strumentazione per il 4K, da quanto tempo ci costa svilupparlo e da quanto ci paga il nostro cliente. Perché se un cliente dice voglio il 4K e sono disposto a pagarlo, facciamo il 4K. Se un cliente dice voglio il 4K, però me lo devi fare gratis perché ti sto facendo girare il nome, uno dice senti da questo orecchio non ci sento tanto bene. Che hai detto? E voi che cosa ne pensate del 4K? A questo punto sono aperti i commenti e aspetto di sentire il vostro parere. Tra l'altro questo è il momento in cui devo assolutamente ricordarmi di chiedervi un bel like per questo video e iscrivetevi anche a questo canale perché continueranno ad arrivare dei contenuti che ovviamente proprio come i formati video saranno aggiornati ai trend del momento. Signori io vi do appuntamento al prossimo video.